Il capo della Polizia di Stato, il prefetto Alessandro Panza, all'Aquila per il vertice interregionale sulla sicurezza pubblica e le infiltrazioni della criminalità organizzata. Un confronto tecnico a porte chiuse nella sede della questura dell'Aquila blindatissima per l'occasione. Un vertice alla presenza delle forze di polizia e dei questori di altre città d'Abruzzo, Lazio e Sardegna. Non è un caso che per il tavolo sulla sicurezza del centro Italia sia stata scelta la città capoluogo di regione, segno evidente dell'interesse che la Polizia di Stato riserva alle problematiche più importanti della città, dalla ricostruzione alle infiltrazioni mafiose. Una riunione operativa che ci inorgoglisce come questura dell'Aquila perché dimostra la straordinaria attenzione del capo della Polizia di Stato sulla nostra città, ha affermato il noquestore Vittorio Rizzi. Una serie di riunioni operative che il capo sta facendo, ha scelto in questo caso per il centro Italia l'Aquila ed è una riunione che a noi ci inorgoglisce come questura dell'Aquila e come poliziotti dell'Aquila perché dimostra la straordinaria attenzione che ha il capo della Polizia per i temi della sicurezza, per i temi della ricostruzione e per i temi che più in generale riguardano anche le iniziative per vivacizzare la socialità in questa città e che possono riguardare iniziative ovviamente di competenza della Polizia, quindi iniziative di sicurezza. E quindi la scelta di arrivare all'Aquila e di fare questa riunione all'Aquila la consideriamo come poliziotti aquilani un privilegio. Cosa è emerso dal tavolo sulla sicurezza riguardo tutte le ultime vicende che orbitano intorno alla città? Diciamo che la questura dell'Aquila ha rappresentato al capo tutta una serie di iniziative che sono state immaginate e messe a punto, che saranno ovviamente poi realizzate nei prossimi giorni, pur non esistendo in assoluto un allarme sui reati predatori esiste comunque un fenomeno molto percepito di insicurezza, questo probabilmente legato sia agli episodi in sé che non vanno sottovalutati, sia a una situazione di generale disagio che vive la popolazione, che fa aumentare la percezione di insicurezza. Noi come Polizia di Stato metteremo in campo sia nelle attività di contrasto a questi episodi che si sono verificati, sia nell'ambito delle iniziative di prevenzione, ma anche nell'ambito delle iniziative di prossimità, perché possa essere data la maggiore serenità a questa città, ma non solo ai cittadini, anche a tutta la parte produttiva di questa città, gli imprenditori, perché sicurezza vuol dire sviluppo e se c'è sviluppo c'è un futuro per i giovani. Sul fronte criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, il questore Rizzi non si sbottona più di tanto, per ovvi motivi c'è una squadra capeggiata dalla procura distrettuale che sta lavorando ad ampio raggio, ha spiegato Rizzi. L'attenzione sull'Aquila è molto alta. Devo dire che c'è una squadra che sta lavorando su questo, capeggiata dalla procura distrettuale, dal procuratore Cardella e da tutte le forze di polizia, dove un po' tutte le componenti delle varie forze di polizia ha una forte, marcata tradizione investigativa. Devo dire che tutti i colleghi provengono a cominciare da me e dai settori investigativi e credo che questo sia il segnale di voler mettere persone che questo lo fanno di mestiere a occuparsi del tema della ricostruzione.